Si è spento nella serata di ieri lunedì 30 ottobre, all'età di 75 anni, Domeogenio Gargiullo, priore dell'abbazia benedettina di Farfa. Nato a Roccapiemonte il 28 ottobre 1948, il monaco benedettino è rimasto nel cuore di tanti cavesi e vietiresi per la lunga esperienza vissuta in questi territori, prima di essere eletto nell'ottobre del 2005, priore dell'abbazia di Farfa. In particolare, presso l'abbazia benedettina della Santissima Trinità di Cava, è stato direttore della biblioteca, docente di latino e greco, preside della scuola media e del liceo, nonché rettore del collegio. Domeogenio, inoltre, è stato parroco di Dragonea dal 1979 al 2001 e rettore del santuario di San Vincenzo Ferreri fino al 2005, lasciando un segno indelebile nella comunità locale, sia sotto il profilo spirituale che sotto l'aspetto umano e sociale. Tant'è che nella popolosa frazione vietrese, questa mattina, le campane hanno suonato in segno di lutto. Il monaco benedettino nel giugno 2018 ha ricevuto anche la cittadinanza onoraria del comune di Vietri sul mare. I riti e sequiali di Domeogenio Gargiulo si terranno giovedì 2 novembre, alle ore 11, presso l'abbazia benedettina di Farfa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.